Con Exa 2014 la tradizione si rinnova. La 33esima edizione della prima fiera in Italia per le armi sportive, security e outdoor inaugura infatti un nuovo concept dove la tradizionale vetrina delle eccellenze produttive internazionali punta a diventare Agora, un luogo di incontro per appassionati, operatori del settore e produttori, con un ulteriore obiettivo, cioè quello di dare una scossa ad un mercato interno in sofferenza, grazie ad una strategia finalizzata ad un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori di Exa. Luca Veronesi, direttore della fiera di Brescia, ha risposto alla domanda sul futuro di Exa, visto che potrebbe essere l'ultima volta che si tiene a Brescia questa fiera. L'edizione 2014 di Exa non è certo l'ultima edizione di Exa. Sul fatto che possa essere a Brescia o altrove si sta lavorando in modo importante in questi giorni, se ne sta occupando il titolare del marchio che è la Camera di Commercio di Brescia, che ha sempre sostenuto il settore armiero da ormai 33 anni, con questa iniziativa. Sono sul tavolo diverse opzioni che saranno però valutate dalla Camera di Commercio in concerto con le associazioni di categoria, affinché il valore di Exa venga accresciuto in futuro. A Luca Veronesi è poi stato chiesto della significativa assenza del gruppo Beretta e di altri importanti marchi, invece presenti all'Hunting Show di Vicenza. Innanzitutto parlerei singolare perché non abbiamo avuto nessuna defezione ulteriore rispetto a quella già annunciata e pubblicata del gruppo Beretta. Vicenza è una manifestazione che ha una sua natura, una sua identità, è in un territorio diverso, ha un target diverso, conseguentemente noi pensiamo a lavorare duramente sul nostro prodotto che intendiamo valorizzare, abbiamo delle vasi molto solide su cui sviluppare un grande futuro per Exa. Il direttore della Fiera di Brescia ha confermato che molte sono le aziende che saranno presenti a questa nuova edizione di Exa. Però già oggi, nonostante tutte queste voci che sono circolate particolarmente negative sulla nostra manifestazione, noi parliamo con i fatti. Ad oggi sono già oltre 200 le aziende che hanno aderito ufficialmente ad Exa e ripeto, nessuna di queste ha fatto marcia indietro e noi stiamo lavorando per garantire a loro la migliore edizione di Exa di sempre. Ci rendiamo conto che le notizie che sono circolate in merito al futuro della Fiera di Brescia possono aver creato un po' di confusione mediatica, ma siamo qui a dimostrare con i fatti che per quanto riguarda Exa non c'è alcun ostacolo allo sviluppo della manifestazione già a partire da questa 33esima edizione. Una 33esima edizione che testimonia una storicità di impegno da parte di Fiera di Brescia e di Camera di Commercio, che è titolare del marchio Exa, a sostegno del settore armiero nazionale. Ricordiamo che nel settore armiero nazionale il 90% è rappresentato dal settore bresciano. Quindi Exa è una manifestazione che nei soli ultimi 15 anni, quindi non nelle tradizioni, nei soli ultimi 15 anni ha portato oltre 500.000 visitatori in Fiera, a sostegno di un settore dove Brescia è assolutamente protagonista nel contesto italiano e nel contesto internazionale. Stiamo parlando di un settore, quello armiero italiano, con il suo indotto delle munizioni e tutto quello che ci gira intorno, che pesa per 100.000 addetti in Italia, pari al 0,54% del totale degli occupati e che pesa in termini economici quasi 8 miliardi di euro sul nostro PIL nazionale. Parliamo di un settore che non è immune dalla crisi, ma dove va un attimo distinta la situazione mondiale da quella italiana. Ci troviamo in un momento in cui a livello globale il settore sta funzionando bene, ma per quanto riguarda l'Italia notiamo che il 95% della produzione sostanzialmente viene esportato. Quindi abbiamo un'Italia che per i nostri operatori pesa soltanto per il 5%. Ed è proprio in questo contesto che EXA si presenta come uno strumento a supporto dei produttori, del settore, degli operatori per meglio dire, del settore armiero italiano. E nel dire italiano, rimarco ancora una volta che stiamo parlando di una sostanziale coincidenza con il settore bresciano, uno strumento che possa essere d'aiuto per stimolare una domanda che in Italia è debole. Conseguentemente dobbiamo trovare le modalità, e le abbiamo individuate e stiamo lavorando in questa direzione, affinché EXA cambi marcia e quindi faccia tesoro dell'esperienza e del valore realizzato in questi 33 anni di storia per avere delle solide fondamenta su cui fondare il nuovo format. Quindi EXA non vende ai propri espositori dei metri quadri, ma EXA vende ai propri espositori delle opportunità commerciali. E' una differenza importante che però è la direzione che noi desideriamo seguire con tenacia, perché siamo convinti che sia l'attività necessaria per rispondere a quella domanda che arriva dagli espositori che vogliono poter operare ancora di più nel mercato italiano, che è quello che in questo momento sta soffrendo. Quindi non c'è una retromarcia degli espositori verso il mercato italiano, non vogliono scappare dal mercato italiano, però vogliono rivitalizzare il mercato italiano. Allora abbiamo invitato un'ampia, abbiamo mandato degli inviti a un'ampia lista di associazioni di categoria, sia venatorie sia di tiro sportivo di Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e Germania e Baviera, con un'iniziativa tale per cui EXA invita a proprie spese con dei pullman, dei visitatori appartenenti a questa associazione di categorie da questi paesi. Quindi andiamo noi a prendere la domanda e la portiamo qui dai nostri espositori. Un'altra novità che abbiamo portato all'edizione 2014 di EXA, con l'obiettivo di catturare l'attenzione di coloro che ad oggi non sono necessariamente già attivi nel settore, quindi che non sono necessariamente cacciatori o comunque in possesso di porte d'armi ad uso sportivo, vogliamo dare una visibilità dell'arma venatoria o sportiva con una sorta di lo sapevate che, dove metteremo in esposizione delle eccellenze di produzione, ma anche delle eccellenze di utilizzo o anche solo di possesso, dove mostreremo degli utilizzi delle armi, per esempio nella cinematografia, piuttosto che mostreremo delle armi nelle mani di personaggi importanti dello spettacolo e delle istituzioni, per far capire che le armi sono un qualcosa che oggi sta prendendo molto piede anche a livello di collezionismo e di opere d'arte. E' confermata, come dicevo prima, tutta l'attività dell'area esperienziale per i visitatori, con le linee di tiro a segno, le linee di tiro al piattello elettronico, il poligono di tiro dinamico e sportivo e il poligono di tiro con l'arco, oltre, come dicevo prima, all'attività di tiri veri e propri su cui stiamo lavorando. Lavorando